buongiorno 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 oggi che giorno è? 2018 tanto per cambiare ci si diverte divertiamoci va io faccio il bastone perché si divertiamoci va dagli il zubbotto in testa va oh mamma io sento che questo è durissimo mezzo chilo di roba vada lì vada lì se ne ha da parlare se ne ha da discutere si va bene discutiamo va un caro saluto a tutti anche per oggi è fatta un caro saluto a tutti bene buongiorno buongiorno com'è andata bene 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 fa piacere mercoledì 31 ottobre 2018 oggi ho avuto fortuna dico la verità si che te lo dico a fare secondo me questo è da guinness dei primati che te lo dico a fare vedi come sono vediamo un po' non ci possiamo lamentare eh no 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 questo da cartolino meglio qui senti come suona bello davvero buona giornata aierci ok ok ok